Una domanda felice di lasciare a Mantova in questa cittadina? Mantova è casa mia, per me è un posto, è la più bella città d'Italia dall'alto, è bella comunque, ma dall'alto quando vedi quei laghi, io l'ho fatta in elicottero con il Fula, l'esternazione del Po, partì da Como, arrivai a Comacchio, è la più bella città d'Italia dall'alto quella volta. E Ferrara dove la mettiamo? Però è bella, ma non ha questo fascino delle acque, poi mi sta sul cazzo perché è la mia città.